Arrestato nel 1953 con l'accusa di comunismo, nel 1956 per alto tradimento, durante i permessi della prigione Mandela inizia a frequentare la futura seconda moglie, Winnie Monzano Madizichela. Nell'agosto del 1962 la primula nera viene catturata a Howick Falls, travestito da autista dell'attore bianco sudafricano Cecil Williams. Viene condannato a cinque anni di lavori forzati. Nel 1964 si laurea in legge a pieni voti in carcere. In un nuovo processo viene condannato all'ergastolo. Passa 18 anni nel carcere di Robben Island. Sei metri quadrati di cella, una lampadina da 40 watt, calzoncini corti in inverno, una visita ed una lettera ogni sei mesi.